Quale è la causa di tanta paura? Scaccia dal tuo petto di vergine la fiamma che vi si è accesa, se ci riesci. Se ci riuscissi avrei la mente più a posto e invece, mio malgrado, un impulso mai prima provato mi trascina e la bramosia mi consiglia una cosa, la mente un'altra. Vedo il bene e lo approvo e seguo il male. Bisognerebbe essere ben crudeli per restare insensibili alla giovinezza, alla nobiltà, anche se non avesse altro, chi non incanterebbe con quel suo viso. Almeno il cuore mio l'ha incantato. Ha un'aria così buona, un animo così nobile, una figura così gentile, che non ho da temere che mi inganni e dimentichi i meriti miei e prima mi darà la sua parola e pretenderò che gli dèi siano testimoni del nostro patto. Di che hai paura se sei al sicuro? La fiamma, supita, ridivampò. Le si arrossirono le guance, si arroventò in tutto il viso e come la piccola favilla rimasta nascosta sotto un velo di cenere suole prendere alimento dal vento e crescere e agitata a risorgere e riacquistare il perduto vigore, così quell'amore già fiacco, che ormai avresti detto languente, si riaccese, come essa vide il giovane di fronte a tanta bellezza. Scusiamola se rimase incantata. Lo guarda e tiene gli occhi fissi su quel volto. So bene cosa sto facendo e se sbaglio non è perché ignoro come stanno le cose, ma perché ti amo. Così rombano quei petti dentro ai quali turbinano fiamme, rombano quelle gole arroventate.